ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video eccoci qua con un altro episodio della reaction ai vostri video e alle vostre collezioni è praticamente una reaction anche a come voi vi rapportate a questo mondo simpatico hobby degli orologi ok non dell'orologeria l'orologeria è una cosa un pochino più alta no un pochino più tecnica storica orologi non qua si parla di orologi di semplici orologi oggetti orologi e a noi ci piacciono gli orologi d'altronde c'è poco da fare come partecipare lo sapete ci sono le informazioni in sovra impressione un bel video in orizzontale no spigliato massimo sette minuti e siamo tutti contenti prima di guardare il video vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo bellissimo omega constellation eccolo qua 39 mm calibro in house di omega con il suo bellissimo scappamento coassiale orologio che mi sono regalato qualche anno fa è che la particolarità di avere il bracciale integrato nello stile che solamente omega sa fare cioè è riconoscibile no è riconoscibile ora il problema quale è che essendo venuto l'autunno un pochino i primi freschi l'orologio è regolato per l'estate quindi è molto larghino qua ora avendo la chiusura farfalla bisognerebbe andare e togliere una maglia una mezza maglia e siccome è una rottura di scatole le chiusura farfalla sono una rottura di scatole perché non ha una regolazione fine ecco fatto che lo devo tenere un pochino così diciamo abbondante lo tengo abbondante non c'è voglia di metterci le mani sopra no questi sono i problemi della vita e ragazzi dai passiamo al primo video ciao davide ciao amici del canale io sono angelica e oggi volevo ricordare la collezione di mio papà partiamo subito con un citizen pro master diver con 200 metri di profondità 40 42 mm diametro cassa mi è sempre piaciuto tantissimo si è sempre trovato benissimo l'ha sempre utilizzato sia l'estate che in inverno veramente non si è mai riuscito a staccare da questo orologio poi passiamo a un 6 con 5 sport con uno stile vintage 100 metri di profondità e anche lui con 42 mm di diametro cassa a mio papà piace soprattutto perché ha le maglie piene si avrà le maglie piene ma guarda qua il simpaticissimo finale vuoto come sta staccato dalla cassa qua vuol dire che quando quando i finali sono in lamierino ripiegato il problema è che con il tempo magari si allentano e fanno questo gioco qua questa fessura questo spazio tra cassa e bracciale quindi cosa bisognerebbe fare bisognerebbe smontarlo stringerlo un pochino trovare il punto giusto rimetterlo dentro e in quel momento lì diventa difficile perché se le siete un po troppo fatiche a trovare in modo da far aderire bene la cassa e questo uno dei problemi dei finali vuoti no quando si diceva cosa servono i finali pieni in acciaio pieno servono perché sono solidari alla cassa ci rimangono a lungo si deve consumare proprio l'acciaio pieno per rovinare l'attaccatura invece in questo caso si è un po staccato è mai lo stesso niente appena appena visto l'ha subito preso passiamo a qualcosa un po più elevato elegante un orient molto vintage con l'indicatore di riserva di carica e anche la rimessa data con il tasto dedicato e questo invece ha 36 mm diametro cassa simpatico ha il cinturino in pelle ed è un po piccolino ma mio papà avendo il polso piccolo va benissimo molto elegante e molto vintage passiamo a un orient tristar bello mio papà quando un po di tempo fa avevi fatto una recensione su questo orologio e quando quando ho visto la tua recensione subito andato a cercarlo è stato veramente faticoso trovarlo perché è andato fuori produzione abbastanza in fretta quindi veramente è stato veramente difficile l'ha trovato su una piattaforma online però è veramente bello con il quadrante color tabacco bellissimo e niente questa era la piccola collezione di mio papà sicuramente prenderà altri orologi cercherà di ampliarla e niente ti saluto davide continua così ciao 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 carissima allora un classico esempio di come una ragazzina sia più spigliata sappia parlare ci sappia intrattenere più di tanti altri che hanno orologioni orologioni no e poi non sanno cosa dire di con l'orologio in mano molto bello dicono oppure fa il suo invece sta ragazzina qua non sono nemmeno i suoi quindi vuol dire che un minimo sia anche appassionata perché conoscere le caratteristiche tecniche nell'orient che magari riserva di carica e la data si cambia col pulsante non è che gliela ha suggerito qualcuno l'ha detto spontaneamente quindi anche un minimo appassionata complimenti 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 che orologi diciamo entry level ma simpatici l'ultimo l'orient lì quello con il quadrante tobaccos cioè il tristar ho fatto la recensione io qualche anno fa e ha avuto un grande successo quel orologio lì perché costava in certi momenti anche 96 euro 100 euro 110 ed è veramente bello è veramente bello 39 millimetri il quadrante sole il tobacco come al solito il bracciale è quello che è ma ha avuto un successone che poi dato soldato subito e non si trova non si trova più c'è ancora ancora persone che mi chiedono dove si può trovare quell'orologio lì non purtroppo io voglio dire anche anche orient nel momento in cui un orologio funziona è un po di intelligenza e continua a produrlo no va bene prossimo video ciao davide ciao ruben dalla bellissima trieste ogni video non sono molto bravo ma come inventiva non mi batte nessuno accetterei a presentarti la mia collezione tanti pezzi non ti piaceranno ma ti annoieranno un po ma la mia collezione praticamente corrisponde a quello che mi interessa fare e mi piace tutto però l'idea l'idea dello specchio e mi piace e ganza non ho mai pensato potrei utilizzare anch'io mentre faccio una recensione con uno specchio invece che una camera la telecamera in più ci metti uno specchio così tutti vedono ti vedono allo specchio e mentre te fa la recensione è simpatica l'idea ora lui un pochino egocentrico sicuramente perché si mette lì così non bella mostra per po tra l'altro vedo che la saga delle delle tovaglie continua qua c'è un tappetone di pelo tipo tipo il volante di carlo verdone quello in pelo no è così un pochino da triestino doc va bene dai andiamo avanti intanto allora partiamo dai quarzoni braille manta è una reddizione di quelli del passato ovviamente movimento al quarzo senza infamia senza lode molto carino ricorda tanto uno squadre e quindi a me piace tanto bravo poi abbiamo bulova lunar pilot versione braccialata in acciaio quello bello grande anche se un polso piccolo a me non dà fastidio assi piace mi soddisfa e quindi contento me contenti tutti bravo che mi chiari di poi abbiamo passiamo qui casio di 1100 modificato da me qua gli ho messo gli indici pezzi miliosi gli ho messo gli ho cambiato le sfere l'ho personalizzato però come capirei la mia collezione a me piace tanto personalizzare gli orologi poi abbiamo suo fratello che non è proprio gemello anche qua modificato gli ho messo un kit simile o demar pighe qua al cinturino in gomma molto comodo o anche il bracciale in versione pvd poi abbiamo un vecchio casio adesso non mi ricordo la referenza questo l'ho ritrovato praticamente a un prezzo regalato e appena l'ho visto deciso di comprarlo subito perché mi ricordava i miei anni la mia adolescenza diciamo 12 13 anni lo aveva un mio compagno e glielo ammiravo sempre insomma l'ho trovato e l'ho ripreso perfettamente funzionante a più di 30 anni e funziona anche al doppio sensore sia altimetro e profondimetro e funziona anche sotto acqua perfettamente questa è la la rivalsa dell'uomo di successo che vedeva l'orologio al polso del compagno di scuola ma lui non poteva permetterselo è diventato grande una volta diventato grande ha deciso di comprare questa è un po la storiella del nostro amico contento di averlo in collezione poi altro tool watch citizen mamma mia una versione un po più recente del solito aqualand brutto brutto poi abbiamo altro aqualand in questo caso è un'edizione jp60 è l'edizione praticamente un po più recente del storico anche questo l'ho personalizzato ma quando gli ho fatto fare una bella revisione gli ho messo il dial giallo dial e poi ho trovato anche sul cinturino giallo e infatti è molto raro e questa configurazione non si vede mai meno male non si vedrà neanche mai perché l'ho personalizzato io poi abbiamo altro tool watch a me piace fare un po di immersione andare sotto acqua casio frogman versione vecchia con il profondimetro termometro e varie altre cose anche qua gli ho cambiato tutto il bezel e lo strap gli ho messo versione turchesa che a me piace da matti bravo poi abbiamo un altro tool watch e basta ancora e per le escursioni per l'escursione sempre nel caso di mamma c'è avrei 12.000 g-shock no te ne serve uno per le escursioni uno per la cosa x una per la cosa y ma cosa minchia te ne fai tutti questi plasticoni qua uno dice mi devono sfidere più un g-shock g-shock rangeman con altimetro marometro termometro e quant'altro un bel bestione però leggerissimo e comodissimo il polso poi abbiamo un imbroglione e dai il 56 10 in versione negativa mi piace un sacco ah ci va ci vado anche in bici l'ho maltrato ed è sempre perfetto questo per la bici poi abbiamo un citizen al titanio versione satellite wave non si vede spesso ma è molto bello anche sto qua è molto comodo al polso nonostante le dimensioni lui non si aggiorna con con il radiocontrollo ma basta semplicemente arrecarsi all'aperto tenere premuto il pulsante lui in sette secondi ti dice si aggiorna si sincronizza con l'ora perfetta con gps satellite must have il citizen pilot mamma mia questa è la versione vecchia in acciaio non credo di poter reggere ancora lungo con tutti questi orologi al quarzo radio controllati gps satellite si poi gps e satellite la stessa cosa ora mi è venuto in mente gps e satellite la stessa cosa tutti questi orologici siamo già a quattro minuti e 35 di oro lo giaci per me e per te chiaramente radio controllato quindi imbroglione e broglie un poi abbiamo suo fratello un po più grande ma ancora no e questo mi piace da impazzire questa è la versione più recente col movimento a giorni col modulo aggiornato ero male e questo ne avrà avuti almeno una decina venduti poi ricomprati e adesso spero di non vederlo più speriamo passiamo alle cose più interessanti speriamo allora partiamo da l'automatico orient top in mezzo a tutto questo loom anche questo vedrai l'ho personalizzato gli ho fatto cambiare le sfere un po più visibili gli ho messo questo cinturino in cuoio ibrido perché sotto è di gomma bello molto carino e comunque anche il suo bracciale originale certo poi passiamo a un orologio che non bisogna presentazione l'issing combat sub 42 secondo me questa versione quella migliore che c'è diciamo del 42 poi c'è di 39 che sono un po più compatti particolari fanno del 42 che ha senso di esistere ha senso di essere indossato il 42 perché sono veramente sottili questi combat sub da 42 questa configurazione qua la migliore quella che mi piace di più è un bel pezzone 42 però con questa forma veramente comodo da portare precisissimo penso che monti un sellita classico se sono contento del ricordo di do che dopo poi passiamo a un pezzo veramente bello che non si vede si vede raramente o l'azione dopo il federico stand high life cos che ha metto un orologio spettacolare so mi ricordo benissimo che l'aria recensito in blu bianco che il suo cinturino in gomma che però non mi fa impazzire perché la bellezza di questo orologio è proprio il bracciale bello bello molto preciso e veramente bello bello ed elegante molto bello poi passiamo a una scimmia che mi è venuta ultimamente cosa cosa mi ha accontentato con un bel prezzo questo seiko presage dopo con un dial rosso pazzesco veramente bello bello e non so descriverlo a dei aspetti che diamo una pulita eccola non è a fuoco e vetro zaffero sopra zaffero sotto movimento s 6 r 35 che stranamente ne ho avuti diversi ma questo è veramente preciso vero male una volta ogni tanto un seiko preciso poi passiamo un altro acquisto ho fatto dal buon giacomo questo l'ho personalizzato un dolce e 100 t acqua veramente stupendo ha delle linee che non si vedono tanto facilmente è un pochettino spesso ma è un 600 metri guai se non lo fosse va bene così ho messo un bel giubile della strap code che lo rende veramente comodo al polso ea me piace così ho anche il suo bracciale originale ma decisamente lo preferisco così va bene poi passiamo all'ultimo pezzo cos'è cos'è un pochettino più di valore che ho anche questo ci ho messo le mani ho personalizzato il tudor gmt in questo caso gli ho montato il suo giubile dedicato della forstner che lo rende veramente comodo al polso è molto bello è molto più regolabile rispetto al suo bracciale originale che ha soltanto tre fori ed è una bella mattonella guadagna diversi grammi di peso rispetto al peso del suo originale poi ho anche dei cinturini dedicati in gomma quel famoso crafter blu e altri dedicati però così è la configurazione che veramente preferisco direi che per oggi ho detto tutto meno male a dimenticavo l'orologio del giorno ecco fatto un altro caso e basta questo dicono che sia il casino royal perché 007 lo indossava in quel film anche se non l'ho visto ciao davide saluti continua così e alla prossima alla prossima ciao caro amico allora come avete visto poi dopo dopo tutta questa serie di quarzoni orologi radiocontrollati gps plasticacci no dopo ogni orologio automatico che arrivava meccanico top e mi ha sfuggito di mano la situazione i top sono volati come se piovesse beh gli orologi e soprattutto la seconda metà diciamo poi ognuno fa quello che vuole cioè contento te contenti tutti come hai detto anche te e personalizzi tutti gli orologi o con un semplice cinturino un bracciale o le sfere o un kit li personalizzi tutti è un interessante modo di approcciarsi a questo hobby anche se come ho già detto altre volte io sinceramente più sale il valore dell'orologio e meno sono propenso a fargli modifiche in assoluto ma anche nel bracciale nel senso che hai messo al al glissi no al al tudor hai messo il bracciale il jubilee di un'altra marca e sinceramente io non ci riuscirei a andare in giro con un orologio di si fatta fattura con un bracciale aftermarket che può essere anche meglio può essere anche meglio con l'aftermarket ma no l'originalità di un orologio di pregio deve rimanere tale secondo me poi logico che un cinturino ce lo puoi mettere perché non aftermarket magari artigianale fatto bene costoso ce lo puoi anche mettere no ti ci puoi divertire però io tendo tenerli tutti col bracciale come se prendessi un omega si master 300 gli metto un bracciale della strap code no 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 eppure esistono anche esistono anche per l'omega si master comunque dai ti sei salvato con l'ultima metà complimenti complimenti e ci vediamo alla prossima dai ciao davide sono ciao da genova volevo mostrare la mia collezione di orologi vintage vintage al seico che mi regalò mio nonno in occasione della mia prima comunione avvenuta nel 1973 l'avevo poi abbandonato in un cassetto per 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 decenni l'ho ritrovato casualmente l'ho fatto revisionare adesso funziona gli ho cambiato il suo cinturino perché quello originale ormai non non l'ho trovato non lo trovavo più e niente monta un ca un calibro 76 a e da qui è partita esplosa la mia passione per per i vintage dopodiché ho acquistato in una orologeria questo reston questo dress watch della reston senza sfera dei secondi un placato oro 36 mm di diametro in cassa un calibro peso il cinturino è quello che ho trovato e ce lo lascio perché mi piace è un 36 mm di diametro come ripeto però per il mio posto da 16 e 30 da 16 e mezzo può stare può stare bene curioso come la placatura oro invece di essere lucida sia satinata cioè è una finitura cassa satinata a raggera con la placatura oro gli da un senso di pregio migliore che una placatura lucida che sa proprio di chip di chi in caglieria e successivamente però sempre un altro reston sempre un fondo di magazzino come precedente questo monta in cassa un calibro eta e quadrante color panna bel quadrante conservato il suo fondello coinciso il marchio della della casa che era una casa orologiera di chiasso scomparsa poi nei primi anni settanta per l'avvento dei quarzi e dopo questo ecco qua l'esempio della della placatura lucida proprio veramente quasi color rame eccolo qua questo qua da una sensazione più cipe del precedente che era satinato no però cavoli c'è un bel quadrante così a linee verticali una trama quasi sembra quasi un tessuto trovare storiologico anche se un marchio scomparso che non ha lasciato certo il segno nella storia dell'orologeria per trovarli nostri sono io li prenderei riprendere subito perché perché rappresentano la fotografia l'istantanea di com'era l'orologio in quel momento negli anni settanta nessuno l'ha toccato e lì eccolo qua e non li vendevano così erano fatti così questo resto nel secondo sono andato a un mercatino ho trovato questo vetta vetta ecco fatto un altro bel marchio molto classico secondo me un omaggio di un ongin 30 l ma insomma li facciamo tutti così gli orologi negli anni 50 e 60 50 anche 60 all'inizio degli anni 60 erano tutti fatti così con i piccoli secondi così minimale c'è una marea di orologi fatti così lo stile è la moda che è un brutto termine ma la moda è quella cioè io ti rendi conto te di guardare un filmato degli anni 80 90 e diciamo come erano vestiti ma quando tu ti trovavi in quel momento lì ti sembrava di essere veramente quello perfetto no è come adesso io guardo i miei contemporanei come sono vestiti e dico ma come siamo vestiti diversamente da una volta no però siamo ci siamo modernizzati un piffero perché fra vent'anni io guarderò queste immagini qua e vi dirò ma guarda come ci siamo come eravamo ridotti capito tutto va contestualizzato quindi come oggi ci sono orologi che si assomigliano in stile uno all'altro e un giorno saranno riconoscibili lì negli anni 50 gli orologi si assomigliavano tutti in questo senso qua erano tutti con la cassa così quasi senza lunetta gli indici minimal no però molto bello col suo cinturino originale addirittura cassa slim incassa un calibro di manifattura della vetta che è il as 1525 as non è vetta e dopo questo ho comprato sempre un mercatino questo blanco anni 70 quadrato pastello day date mi piace la sua forma quadrata il suo fondello logato il cinturino l'ho cambiato perché quello che c'era non mi piaceva la corona non è logata potrebbe non essere originale per il resto un bel orologio se comunque questo degli anni 70 si vede dallo stile il logo lanco con la l così cerchiata è stato introdotto nel 1965 quindi gli orologi databili da 65 in poi hanno il logo l cerchiato prima c'erano differenti c'è una scritta io ho avuto il deluxe modello 11 mi sembra aveva la scritta un po corsiveggiate no comunque da 65 in poi il logo lanco è questo questo funziona devo ancora farlo revisionare per il momento funziona funziona dopo questo ho preso un aureol di forma e il cassa un movimento un movimento felsa e il precedente scusami lanco anche lui movimento di manifattura langendor 6148 l'aureol invece in casa un felsa 472 di forma come dicevo cinturino coccodrillo stampato l'unica pecca che è virato e non si legge bene il nome della casa aureol l'ho portato nel mio orologiaio mi ha suggerito che andrebbe rifatto il il quadrante ma nello stesso tempo per per la cifra che ho speso 90 euro secondo lui non ne vale la pena ma non ne vale la pena non tanto nemmeno per il discorso economico costa l'orologio x proprio perché lo vai a snaturare il quadrante è leggibile è leggibile è un pochino sporco è un pochino virato ma nemmeno tanto cioè quattro è veramente anche bianco finché è funzionale va tenuto così cioè il segno del tempo si devono vedere altrimenti se me lo metti nuovo di pacca lo fai tutto bianco lucidi i numerini e dopo sembra finto cioè come può un orologio del 1950 sembrare nuovo oggi a meno che tu non l'abbia preso nos come gli altri allora ha un senso cioè tutto va contestualizzato ho trovato un orologio nos cioè nuovo fondo di magazzino col cartellino eccolo qua è nuovo c'è un motivo altrimenti se è stato utilizzato e ha vissuto sulle persone per 50 60 anni i segni del tempo ci devono essere no e se non sono così se non sono tali da deteriorare la funzionalità vanno lasciati è capito io penso così ma penso così vedremo per ora lo tengo così il successivo un altro nos aviammatic quadrante grigio indici o questo qua sembra quasi nuovo ok perché perché era un fondo di magazzino quindi ha senso di esistere così bello pulito nuovo come ho detto prima perché la fotografia di quel momento ma perché la sua storia prevede che lui sia nuovo in questo momento no nel 2023 lui è nuovo è nuovo perché non è mai stato usato quello di prima l'hanno utilizzato ha virato va lasciato così non va non va portato al livello di questo perché non è credibile come come prendere una signora di 70 anni e volerla rifare tutta per farla sembrare una di 30 e no e no non ha senso non ha senso cioè come disse qualcuno ci ho messo così tanto a farmi venire le rughe che non mi vale di togliermele hai capito arancioni tutto in acciaio inossidabile il cinturino è quello che che ho trovato al mercatino per ora può andare ma pensavo di cambiarlo con un altro magari grigio come dicevo tutto acciaio inossidabile in cassa un movimento fkf 905 poi che rompo un attimo la carrellata di vintage per presentarti i miei due diver entry level il primo il celeberrimo vostro anfibia che conosci benissimo certo e sul quale non aggiungo non aggiungo altro e il secondo è tanto celebre il leggendario citizen promaster quadrante nero che so che ultimamente ti ti piace di più di full lume e niente anche su questo non aggiungo altro poi tornando ai vintage va i miei top di gamma un tiso movimento automatico quadrante panna bello a casa movimento di manifattura tiso 7 8 3 del 1962 è tutto logato quadrante corona bel fondello bel fondello il cinturino l'ho cambiato non ho messo un altro più consono e non c'era scritta swiss made ma ovviamente l'epoca non era ancora obbligatorio ho saputo che lo è diventato nei primi anni settanta il quadrante comunque perfettamente in ordine non mi pare ristampato allora quel tiso lì neppure a me mi sembra ristampato che sia diventato obbligatorio negli anni settanta scritta swiss made non lo so probabilmente è diventato diventato obbligatorio quella con la t con il discorso del trizio che deve essere minore di un tot no oppure che deve devi evidenziare che è presente il trizio sul quadrante per motivi legali forse quello che è diventato obbligatorio ma per il resto mi sembra che ognuno faceva un po come voleva ad esempio longin fino agli anni 50 a metà degli anni 50 non metteva neppure swiss made sul sul quadrante in quelli dopo il 55 diciamo così come data spartiacque ci deve essere no poi lo vediamo cioè io mi rendo conto che noi stiamo cercando di decodificare codificare meglio codificare certe cose certi comportamenti delle case che loro non ci pensavano neppure a codificarli come succede oggi è perché io vedo c'è oggi escono anche certi longin che a volte hanno la clessidralatra a volte hanno solamente la scritta normale a volte c'hanno questo a volte c'hanno la certificazione cronometro fatta da un laboratorio a volte dal cosca a volte da un terzo laboratorio quindi la codifica ce l'abbiamo noi nel cervello di cercare di capire tutte quelle cose quei quadranti quelle le corone no ci sta anche che non ci avesse la scritta swiss made cioè questo volevo dire alla fine l'ultimo che ho acquistato questo longin eccolo qua questo longin oversize diametro ora io qua vedo la corona che sta piuttosto distante dalla cassa qua questo qua non dovrebbe essere così anche perché se lo avessero progettato costruito così quello lì sarebbe un punto nel quale entra la polvere l'umidità l'aria umida tutto quello che volete quindi secondo me c'è qualcosa che non va nella corona 37 mm a un calibro 12.6 8 z del 1952 53 loro già come l'ha venduto ma detto che è tutto originale il quadrante mi pare di sì il fondello è logato all'interno la corona invece non è logata anche qui essendo degli anni 50 potrebbe essere comunque originale però ecco volevo un parere da te su questo orologio sulla ora te mi dici che ora il discorso che ho fatto prima sulla scritta swiss made probabilmente mi sono sbagliato è la corona no la corona che è logata dal 55 quindi prima potevano anche non essere logate ora qua io ho detto che è staccata ma potrebbe anche essere aperta nel senso come c'è nella posizione strata non lo so sicuramente una corona fatta così dovrebbe essere pochino più a cappello di prete queste qua oppure cilindrica fatta così non lo so il quadrante qua boh non saprei proprio cosa dirti sinceramente mi sembra di vedere le sfere d'offern lì che sono veramente di una finitura differente sono più lucide rispetto agli indici e solitamente il tutto tutto l'insieme dovrebbe invecchiare di pari passo no poi non so mi sembra molto bianco io non so cosa dirti poi andrebbero visti proprio veramente cioè come si fa ma nemmeno guardandolo da vicino col lentino a volte si riesce a capire se originale o se è stato ristampato figurati da un video così in mano a me mi sembra troppo bianco quando io vedo una cosa troppo bianca dico o è nos che lei compra che te sai di averlo comprato come fondo di magazzino come precedenti oppure l'hanno ristampato oppure c'è anche che l'hanno ripulito con un cotton fiocco sono riusciti a fare una pulizia ma di solito è un po' rischiosa la pulizia col cotton fiocco perché porti via un sacco di cose non so cosa dirti non vedo non vedo cose strane a parte la differenza di finitura delle lancette poi il resto andrebbe visto per benino dal vivo anche la cassa forma di cassa un po' particolare per quegli anni lì perché questo qua è un orologio dell'inizio anni 50 non è che si va più in là e le casse così con queste anse belle piene si ci sta ci sta dai erano un po' più magrine le casse comunque bello orologio è possibile originalità per quello che riguarda corona fondello quadrante cassa e comunque sia mi piace moltissimo ho cambiato il cinturino l'ho preso di lucertola lucertola piena perché noblesse oblige questo è ed altro ti chiedo un parere sul mio ultimo acquisto su questo mio longin e ti faccio naturalmente i complimenti per la trasmissione grazie saluti i followers e grazie per l'opportunità che ci concedi concedi ti saluto ti abbraccio e naturalmente love love grande un simpatico amico con una collezione di orologi vintage diciamo abbastanza variegata si sconosciutissime e marchi più conosciuti come questo longin qua ultimo del quale ti ripeto non posso dirti è tutto perfetto è tutto sbagliato no non lo so non ne sono in grado non dispiace sembra troppo pulito però sembra troppo pulito poi quando è girato un attimo così l'orologio visto sopra la crescidralata che c'era come se ci fosse un baffo bianco quindi però non lo so da qua è difficile vedere comunque complimenti gli unici due moderni che hai sono il simpatico pro master e simpatico anfibia e siamo tutti contenti prossimo video ciao davide mi chiamo sono napoletano ma vivo e lavoro a treno ti mostro brevemente la mia piccola collezione vai partiamo da questo tissu prx l'ho preso al quarzo un bell'orologino chiaramente il mio everyday watch lo utilizzo tutti i giorni regolarmente come puoi vedere anche dai vari segni e perché al quarzo perché io non li disdegno le apprezzo e penso che siano comunque dei begli orologi e poi mi serviva un qualcosa da utilizzare rapidamente insomma un qualcosa da che era sempre pronto sempre preciso se è anche perché l'ho preso con un bello sconto e quando l'ho comprato la versione automatica diciamo non era ancora uscita non esiste ancora quindi ho preso questo mi tengo questo e non penso proprio che lo cambierò con la versione automatica si è fatto tutto un castello di ragionamento logico mi serve un orologio sempre pronto perché amo gli orologi al quarzo poi alla fine è perché quell'altro automatico non c'era ancora non era ancora uscito allora hai rovinato tutto è crollato tutto il castello che ti sei costruito per autoconvincerti da passando in casa orient invece abbiamo questo bellissimo orient bambino anche questo con quadrante bianco e placato oro rosa mi piaceva non lo considero un dress watch perché insomma è grosso comunque 40 mm e il quadrante bianco tende a renderlo anche più grande di quello che sembra quindi niente però lo indosso regolarmente anche con vestiti casual mi piace tanto è semplice per essere un entry level è davvero un bel pezzo bello restando in casa orient cos'è questo orient cano xl orologio bello grosso 43 mm ora da qualche bene sul mio polso da 19 e mezzo quindi l'ho usato per andare al mare per andare in piscina e la fontando c'è il fondello è chiuso la corona vite anche questo nulla di che veniva venduto con un cinturino in gomma che non mi piaceva non mi piacciono i cinturini in gomma e gli ho messo momentaneamente un bracciale che poi cambierò perché la qualità fa un po cagare e invece ritornando in casa ti so eccolo qui scendeture bravo questo qua l'ho preso praticamente dopo aver visto la tua recensione direttamente il giorno dopo in gioielleria guarda che bello è un orologio di cui mi sono innamorato appena l'ho visto è bellissimo quadrante a vista l'avrei preferito chiuso fondello me lo faccio andare bene bravo e niente mi piace tanto è bello diciamo che questo qui era un po indeciso quando sono andato a prenderlo perché inizialmente volevo prendere il modello precedente con il quadrante blu e i numeri romani perché su in fotografia mi sembrava un po più carino invece dal vivo devo dire che alla fine ho deciso questo qua perché comunque è molto più bello e anche più sottile rispetto al modello passando all'ultimo pezzo che ho preso proprio oggi questa mattina bravo questo bellissimo seiko presage cocktail mojito dovrebbe essere che bello che è il mio primo seiko ho sempre voluto prendere seiko ma per un motivo per un altro non li ho mai presi quindi questo è stato diciamo il mio battesimo del fuoco al seiko mi dispiace che il cinturino mi piace anche se penso che lo cambierò sembra di plastica nero perché penso che il nero ci stia meglio su questo colore questo l'apprezzo tanto piccolino non è nemmeno troppo spesso mi piace niente questa è la mia piccola collezione e pensavo magari verso natale di fare un piccolo salto di qualità passando a tudor e sono solo un po indeciso se andare su black bay 58 oppure prendere un royal non lo so se magari hai qualcosa da consigliarmi un po sulla stessa fascia cioè dai 3.000 in su vediamo penso che si trovi un po di tutto niente ti ringrazio per il tempo sul canale saluto te gli amici del canale ci vediamo dai ciao ciao un caro saluto io ora consiglio degli orologi nel complesso tutti promossi quindi problemi non ne hai diciamo così ora il royal e il black bay 58 sono due orologi completamente diversi uno è un diver diciamo no diver gentile un diver classico dall'altra parte c'è un orologio abbracciale integrato che è un pochino più uno sportivo elegante tra quei due lì proprio devi scegliere te non è che te lo posso dire io cosa prendere perché sono due orologi validi quello che prendere io non lo sono probabilmente di quei due nessuno il royal a me hanno fatto i bracciali integrati poi magari il royal c'è i numeri arabi romani anche se non mi sembra che c'è qualche versione senza forse quei brillanti però vabbè prenderei tutto il 58 black bay 58 ma magari ma 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 nemmeno ma nessuno dei due capito che prendere però poi da 3 mila in su cosa suggerire sinceramente non lo so non mi viene in mente c'è un sacco di longin di oris c'è c'è il tagoyer carrera credo ci si possa arrivare cioè sono di orologi belli quando sei lì sono tutti validi sono tutti belli dipende da cosa vedi te bello e ognuno ha un punto debole no a un punto debole che ti devi accettare perché vuoi talmente quell'orologio ogni orologio ce l'ha un punticino debole qualcosina che è lo spessore e se fosse stato fatto così è la data è il bracciale è la chiusura c'è sempre quindi ti devi mettere alle spalle il punto debole e prendere l'orologio perché perché lo vuoi veramente se quel punto debole ti impedisce di comprare quell'orologio vuol dire che non lo volevi che non lo vuoi che non è doveva essere perfetto per te quindi non va bene quello l'orologio detto questo praticamente ti ho lasciato da solo a decidere fai te perché io devo fare tutto io e che mischia ciao davide ciao complimenti per il canale grazie io sono antonio da vicenza vicenza e vado a mostrarti brevemente la mia piccola collezione l'orologio è molto modesta cominciando da questo citizen eco drive ecco drive mi affascinava la carica solare ho deciso di acquistarlo è un 42 sto qua è tutto in titanio super titanio super titanio e il vetro minerale si è graffiato quasi subito è un vetro minerale economicissimo un bell'orologio fa bene il suo lavoro l'ho molto sfruttato ecco bravo piaceva molto l'ho preso subito e niente a distanza di qualche anno ho comprato questo un swatch swatch utilizzato molto nella scena hardcore punk dagli straight edge per la sua x enorme ma veramente veramente poco pratico nella lettura infatti non lo sfrutto quasi mai eh va bene pace a distanza di un po' di tempo ho tornato alla carica e insieme a un amico ho iniziato a frequentare una gioielleria dove lui ha acquistato un seico e io mi sono portato a casa questo citizen pro master e poco dopo ho acquistato anche il suo fratellino bravo bravo il ny0040 a cui ho fatto montare questo cinturino nero con cucitura rossa che richiama il logo pro master qua in cima e i 200 metri qua in basso orologi che mi piacciono molto che ho sfruttato moltissimo quest'estate ma che dire sono fatti davvero davvero bene citizen mi piace come lavora e ho anche un loro cappellino della citizen bravo sono un po' diciamo come si dice fanboy citizen fanboy bravo ecco poi ho acquistato anche un pilot radiocontrollato sempre citizen bravo imbroglione a batteria come dici tu tutto in titanio anche questo vetro zaffero l'ho scelto principalmente per quello perdono le evitate e niente è un bello orologio fa bene il suo lavoro fa il suo fa il suo pratico e funzionale simpatico simpatico a distanza di poco tempo un amico mi ha suggerito di provare il secco e ho comprato questo Tartle bravo questo è bello assai molto bello Prospex però purtroppo per il mio polso da 16 cm è troppo grande perciò ma ho capito ragazzi il polso da 16 cm da 17 da 18 che poi la circonferenza ripeto mille volte è data dalla somma facciamo finta che sia un rettangolo parte sopra parte sotto altezza altezza è la somma di questi no per cui se io ho un polso da 19 ma è alto così la parte sopra è come la tua da 16 quindi la conformazione del polso è tutta altra roba rispetto alla circonferenza che è un numero nudo e crudo detto questo un diver deve essere grande quindi se sul tuo polso sul tuo polso da 16 cm sembra un patacone così e deve essere così indossalo così non pensarla come fosse un longin da 35 mm degli anni 50 io indosso con un piacere sia orologi da 43 44 avevo anche il 45 mm dell'omega planet ocean ai 34 33 32 dei vintage cioè tutto sta nel momento in cui lo indossi a fare mente locale perché se te indossi sempre orologi piccoli nel momento in cui te ne metti uno un pochino più grande rimani scioccato no troppo grande al contrario se indossi sempre orologi grandi quando indossi quello piccolo dici cos'è l'orologio della comunione hai capito quindi c'è un pochino di apertura mentale e adattarsi al momento penso che lo venderò anche se sarà difficile perché c'è questo piccolo segno qua un graffietto sui 55 minuti nulla di grave nulla di sconvolgente però molti storgono il naso diciamo intanto lo tengo lì bravo indossano ho acquistato anche questo sempre seico il sonar 70 scheletrato carino sembrano acquidente tedesco perciò al datario in lingua tedesca mi piace molto dire che questo tipo di orologio è scheletrato è sbagliato è però perché semplicemente un quadrante semi trasparente che lascia intravedere il calibro sottostante scheletrato è veramente si intende quell'orologio che è costruito tutto sul calibro indici compresi tutto capito anche se lo strutto poco non mi fa impazzire il fatto capire il fondello a vista perché hanno scelto un vetro molto scuro ah questo non lo sapevo questo si diciamo che va bene ma non benissimo eccolo qua vediamo se riesco a farlo vedere eccolo là abbastanza bruttino questo fondello allora è la prima volta che vedo questo tipo di fondello così scuro non ci avevo fatto caso non lo sapevo secondo me l'hanno fatto scuro perché essendo il quadrante semi trasparente con un fondello chiaro sarebbe entrata troppa luce e quindi per creare il giusto contrasto hanno messo un fondello scuro come quando si oscurano i vetri della macchina in modo che così non c'è troppa luce dentro l'orologio secondo me hanno fatto così quel punto lì potevano mettere un fondello chiuso ma siccome evidentemente non è previsto per questo tipo di cassa moderna il fondello chiuso non ce l'hanno non hanno inventato hanno detto come facciamo e scuriamo il vetro o un sistema nell'altro hanno fatto così questo fondello l'ho vista diciamo a distanza di poco tempo ho acquistato per la mia ragazza quando l'ho visto mi ha fatto pensare subito lei l'ho ordinato un citizen eco drive bello il quale ho fatto incidere una frasetta per lei non è appassionata di orologi però le è piaciuto tanto mi ha fatto molto piacere e prova a dirgli no mi dà soddisfazione vederglielo al polso quasi tutti i giorni oggi le ho chiesto di lasciarlo a casa per fare il video un gran bello orologino e sul suo polso fa una gran bella figura ma si cosa vuoi che ti diceva che non gli piace eh no ti mostro anche il mio ultimo acquisto cos'è cos'è che è questo Seiko Alpinist bravo promosso sono anche il top vai sto cercando solo un cinturino di questo genere ma in ecopelle se qualcuno ecopelle dove posso rimediarne uno me lo faccia sapere per cortesia qui sul canale e devo dire la verità è un orologio che porto spessissimo mi piace molto è molto molto pratico io lo considero quasi un dress watch devo dire la verità mi affascina tantissimo questo orologio davvero bello profuma di altri tempi profuma di altri tempi molto bello bravo l'orologio che ne ho so oggi invece è questo Garmin Fenix April Sola un tool watch e io lo sfrutto molto qua in montagna siamo vicino a Trento bla 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 uso per andare a boschi bocca alle mappe molto pratico e tengo monitorato monitorato tutti gli aspetti della salute è molto carino è un bello orologio fatto bene il tool watch meno male per mostrarti l'ultimo ancora mi vergogno un po' è una ciofeca alert è un Biden che mi è stato regalato e lo pongo così non lo uso mai Biden è presidente e questo è tutto ti ringrazio se pubblichare il mio video Davide lo pubblichiamo grazie mille continua così e love 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 dai una serie di orologi insomma dal sapore un po' contrastante un bel sei chini hai preso bravo 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 poi l'ultimo si è saltato fuori con quel Garmin lì cos'è quel padellone lì elettro elettronico un dispositivo elettronico da polso non è un orologio è un dispositivo elettronico da polso digitale che mi è sciorinato tutta una serie di cose che è utile e non lo metto in dubbio ma a quel punto lì mi dico ma io non ci riuscirei io non ci riuscirei se mi servisse veramente una roba del genere la metterei di qua a destra la metterei a destra e di là ci avrei l'orologio cioè il polso per il mio orologio meccanico giornaliero ci vuole track qua così poi di là siccome mi serve perché devo andare a cercare le cappelle dei funghi nel bosco e allora mi metto quello lì il Garmin nel polso destro così sono contento cioè lasciare a casa uno dei miei orologi per lui no no boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino a qua spero vi siano piaciuti i video e come li abbiamo guardati assieme se volete dire la vostra lasciate i commenti qua sotto sono fatti apposta e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io qui su youtube il più spesso possibile più o meno è così love ciao a tutti Grazie a tutti.